Un malessere che viene a galla dopo tanti anni, forse una di quelle dichiarazioni che nessuno ha mai reso pubbliche ma che si scopre essere da tempo nei pensieri degli addetti ai lavori. Dopo le dichiarazioni del presidente di Confindustria, Paolo Primavera, che dichiarava l'Aquila a Zavorra per l'economia d'Abruzzo ad avvalorare le sue dichiarazioni, arriva Carlo Costantini, che riprende il caso della mancata fusione delle Camere di Commercio di Chieti e Pescara. Io mi riferisco in particolare al processo di fusione di Pescara-Monte Silvana e Spoltore. Ero consigliere regionale, ho impiegato tre anni per portare all'attenzione e all'ordine del giorno dell'Assemblea questo progetto perché i rappresentanti del territorio aquilano non volevano assolutamente che i cittadini avessero la possibilità di votare attenzione, la delibera era funzionale alla semplice indizione del referendum, tradendo un limite che è culturale prima ancora che politico. Quello di pensare che una condizione di primazia, di supremazia in Abruzzo possa essere conservata nel tempo impedendo agli altri di crescere. Pescara ha una storia completamente diversa, credo che sia anche relativamente interessata alla prospettiva di diventare capoluogo di regione ma io dico se 100.000 persone hanno votato e decine di migliaia hanno chiesto di mettersi insieme e di far nascere una grande metropoli di 200.000 abitanti io non vedo per quale ragione l'Aquila debba impedire mettersi di traverso e creare ostacoli perché questo processo si realizzi anche perché, ci tengo a sottolinearlo, se dobbiamo parlare senza ipocrisie, il freno alla realizzazione di questo progetto è un freno tutto aquilano.